Un premio all'impegno sportivo è stato consegnato oggi al karate cabarese Giorgio Romanini. Una targa di riconoscimento è stata consegnata oggi dal sindaco Antonio De Caro al karate cabarese Giorgio Romanini dell'ASD Fudoshin Bari, guidata dall'ex campione nazionale e mondiale Michele Giuliani. Questo risultato di Giorgio è stato il nostro dal primo anno che siamo in attività federale, è stato un importantissimo traguardo ma è solo l'inizio. Mi auguro di fortificarlo e fortificare tutti i ragazzi che appartengono alla nostra società che è la Fudoshin Bari e riuscire a qualcuno di loro come è successo a me di poter dare anche la possibilità di entrare a far parte dei gruppi sportivi militari attraverso la nazionale. Proprio di recente siamo tornati da Ostia di due giorni di raduno seminario con la nazionale giovanile dove Giorgio si è potuto districare con i migliori atleti nazionali. L'assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli ha sottolineato l'importanza dell'impegno sportivo dell'atleta barese per il conseguimento dei risultati. Il giovane atleta a 15 anni ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati nazionali di karate disputati lo scorso 8 giugno al Pala Pellicone di Ostia. Il karate è entrato da poco fra le discipline olimpiche. Il karate è entrato da un'impegno sportivo dell'atleta